Offside Pisa, le voci dei protagonisti. Con Mr. Maurizio Antenucci, nuovo allenatore di allievi nazionali della Cipisa 1909, esperienza iniziata da un paio di giorni qua al Bianco Forno, intanto come si trova e com'è che si è trovato a vestire la maglia dalla Carrarese e passato alla maglia della azzurra, quella del Pisa? Ma intanto ho visto che c'è un bellissimo centro d'allenamento, quindi con tanti campi, tanto spazio, e che mi sono trovato bene perché i ragazzi hanno risposto a quello che io volevo, all'attenzione, alla voglia di allenarsi, quindi ho trovato un gruppo disciplinato, motivato e che ha voglia di fare. Non sta facendo bene il campionato, ma sono convinto che nell'arco di un po' di tempo riusciremo a dire anche la nostra, perché è una squadra che ha qualità, è una squadra che potrà fare sicuramente meglio. Sicuramente gli allievi nazionali sono un po' la formazione, ancora un po' l'incognita, aperta tra le formazioni del settore giovanile nero azzurro, proprio perché erano partiti con delle aspettative più alte e si stanno trovando invece in difficoltà. Lei arriva dall'esperienza molto positiva alla Carrarese con gli allievi, con cui ha guadagnato anche le finali nazionali Scudetto, quindi potrà apportare magari anche quella conoscenza e quell'esperienza, magari anche quella fiducia nei ragazzi che in questo momento magari l'hanno persa. Sì, esatto, hai detto una cosa giusta, la fiducia che in questo momento magari con la mancanza di risultati non c'è autostima, magari non si tenta di fare le cose, comunque quello che conta in un settore giovanile è la crescita del ragazzo, la crescita individuale del ragazzo e portare più giocatori possibili del vivaio nella prima squadra. Se si riesce a fare questo arrivano anche risultati, se si vogliono pensare solo ai risultati e non alla crescita del ragazzo potrebbero esserci degli inconvenienti, magari nell'arco degli anni non porti mai un giocatore a essere nella prima squadra e dire che questo è cresciuto al vivaio, questa è la cosa fondamentale. Credo che ci voglia del lavoro, della pazienza, a me non manca, ai ragazzi credo anche, e ci vuole soprattutto chiarezza nel lavoro che si fa, perché nei ragazzi è difficile, a volte si fa confusione, a volte aspettarli, aspettarli sempre nella loro crescita che sarà graduale e anche lenta. Crescita graduale e lenta, questo è sicuro, domenica però partita difficilissima in casa della terza classifica, il Torino, è vero che i risultati non contano, però insomma gli allievi devono cercare di portare via almeno un pareggio, sempre per il discorso della fiducia e quindi magari portare anche il punto che serva per muovere la classifica. Sì, questo è chiaro, noi andiamo in campo e il risultato conta, ci mancherebbe altro, non conta, però quello che conta è la prestazione, perché è difficile fare il risultato senza fare la prestazione. Ora sono qui da due giorni, ho visto che la squadra ha qualche problema, però è normale, se si cambia allenatore e si decide di fare una determinata scelta vuol dire che i problemi ci sono, però io sono convinto che questa squadra, al di là che possa avere il Torino, poi il Novara, poi la mezza squadra canarese, sono tutte partite difficili e non sono mai partite scontate, anche con una squadra che ha zero punti la domenica nei ragazzi se sempre un risultato in billica. Io mi accontenterei già al fatto che la squadra abbia una crescita nella prestazione, se facciamo la prestazione sono convinto che si fa anche il risultato.